Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del Tg6. Abusivismo, spazzatura, minacce e aggressioni sono alcune delle questioni che caratterizzano il rione via Rigopiano. A Pescara, a chiedere l'intervento del comune della regione Abruzzo, che è proprietaria dei fabbricati popolari, ancora una volta è stato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Il servizio è di Stefano Recanati. Immondizia buttata dalle finestre, pezzi di vetro, rifiuti, cibo, addirittura anche urina sui balconi sottostanti. Torna a denunciare il degrado di via Rigopiano a Pescara il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, sceso ancora una volta al fianco dei cittadini che, esasperati dalla situazione che si è venuta a creare, devono continuamente subire minacce in alcune circostanze, anche aggressioni. Situazione pericolosissima, anche per l'insalubrità dei luoghi. A questo si aggiunge naturalmente alcuni occupanti abusivi che permangono, spaccio di droga diffuso, imponente. Ci sono persone che io non posso capirlo, persone ricche, le persone ricche, famiglie ricche non possono stare in case popolari, perché utilizzano le case popolari solo per attività illecite. Abbiamo persone che vediamo, macchinoni da 70-80 mila Euro, a fronte di cittadini che hanno necessità e bisogno di una casa popolare, veramente i poveri, i poveri che non hanno la casa popolare. Quindi i ricchi devono andare fuori, si deve fare un'indagine e vedere il tenore di vita delle persone. Non possiamo consentire alle persone ricche di stare all'interno delle case popolari, che tra l'altro non ne hanno bisogno e le utilizzano solo per delingue. Abbiamo ancora furti, allacci abusivi, corrente elettrica, acqua, addirittura il collegamento diretto, il bypass sull'acqua, bombole del gas, perché non possono collegarsi abusivamente, lasciate sul balcone, al sole, potete immaginare anche il pericolo di incendio. A tutto ciò si aggiungono 20 appartamenti, li potete vedere murati, non assegnati, pronti per essere occupati abusivamente. Appartamenti murati vanno assegnati ai cittadini che ne hanno diritto, quindi qui è tutta una situazione vergognosamente. Ci sono ancora soggetti pericolosi che hanno puntato coltelli alla gola di questi cittadini che sono stati aggrediti, con coltelli puntati alla gola di alcuni soggetti, ho chiesto l'allontanamento di questi soggetti, sono ancora qui. In tutto questo dramma io chiedo un appello forte al Presidente di Regione, perché sono case della Regione Abruzzo, al Sindaco di Pescara, di ristabilire subito, verifica dei requisiti e ristabilire la legalità in questi posti. Fare un'operazione di bonifica, di pulizia, togliere gli abusivi, assegnare le case non assegnate alle persone che ne hanno diritto, perché mettendo i cittadini onesti sicuramente si potrà risolvere e risollevare il tessuto sociale di questo posto. Cambiamo argomento, la riforma Cartabia cancella la proroga della chiusura dei tribunali minori, ma la battaglia in Abruzzo prosegue. La Vice Presidente del Senato, Anna Rossomando, è stata ad Avezzano e Sulmona per raccogliere le stanze del territorio. Vediamo. I presidenti degli ordini degli avvocati delle province dell'Aquila e di Chieti si dicono pronti a sfilare sotto il portone del Ministero della Giustizia per salvare i cosiddetti tribunali minori. Intanto arriva una doccia gelata per i quattro presidi abruzzesi a rischio, Avezzano, Sulmona Vasto e Lanciano, dopo la decisione di Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, di bocciare la richiesta di proroga della chiusura dei tribunali. La battaglia dai e sui territori però non si ferma e Anna Rossomando, Vice Presidente del Senato, ha tenuto due incontri in Abruzzo, uno a Sulmona e uno ad Avezzano, proprio sulla salvaguardia dei presidi di giustizia. Qui c'è un tema sicuramente geografico che mi è stato sin troppo ovviamente perché basta guardare la cartina di un eventuale sbilanciamento geografico tra la parte centro nord e la parte centro sud. C'è un tema anche di analisi della criminalità su come incide e impatta sul territorio per quanto riguarda il servizio penale e una serie di altre questioni per quanto riguarda il servizio sulla giustizia civile. Il parere negativo è sotto il profilo dell'impatto economico, io credo che questi dati siano importanti per essere rappresentati in queste ore. Sicuramente c'è bisogno di una proroga anche per tener conto, e questa è l'ultima questione che elenco, dell'utilità anche di questo mio viaggio per avere un'istruttoria più completa, perché da questi territori arrivano anche delle proposte evolutive. In realtà questa situazione potrebbe, almeno per quanto riguarda una proroga fino al 2024, potrebbe essere accolta dal governo e quindi da qui a prima di fine anno avere l'ufficialità di questa buona notizia, che però non è la cura, perché è solo un palliativo in attesa di quella che dovrebbe essere una soluzione definitiva. E ora il bollettino sulla pandemia, sono 53 nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2.599 tamponi molecolari e risultato positivo il 2% dei campioni analizzati. La variazione percentuale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente è pari a più 69%, aumentano i ricoveri che passano dai 20 di ieri ai 23 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo all'1% per le terapie intensive e sale al 2% per l'area medica. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è quindi fermo a 2.514, i nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 93 anni, l'incremento più consistente si registra nel Terramano, sono 21 nuovi casi seguito dal Chietino, 15 casi dall'Aquilano con 8 casi e dal Pescarese con 6 casi. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale ancora e arriva a 27,54 a livello provinciale, il dato più alto è quello del Pescarese che ha un'incidenza pari a 38. Gli attualmente positivi salgono a 1.118, nella nostra regione sono 26 in più rispetto a ieri, di questi 22 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, tre in più rispetto a ieri e uno è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 1.095 positivi accertati sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti delle ultime ore sono 27. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, è stato presentato il progetto di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero di Collimadonna a Pescara. L'intervento dal costo di 570.000 euro riguarda un'ampia porzione del cimitero, nello specifico parte dell'ala orientale e andrà a recuperare gli effetti prodotti dalle intense precipitazioni invernali. Vediamo il servizio. Sindaco Carlo Masci, un progetto esecutivo, adesso si andrà a gara e poi da settembre si parte per il restyling del cimitero di Collimadonna. Sì, devo dire che di progetti ne stiamo approvando tanti e tante opere stanno partendo, però questo progetto e questa opera mi riempiono di soddisfazione perché? Perché parliamo di defunti e l'attenzione ai defunti deve essere massima. Parliamo del cimitero di Collimadonna, purtroppo da troppo tempo le sepolture non avvengono in quel cimitero perché non ci sono più loculi e poi c'è anche una zona interdetta perché è interessata da una frana. Con questi 570 mila euro noi otteniamo tre obiettivi. Il risanamento della frana e quindi mettiamo in sicurezza la zona del cimitero che era franata. Recuperiamo i camminamenti che erano interessati dalla frana e quindi permettiamo l'accesso in zone che erano interdette, sono interdette fino a oggi. E poi realizziamo 72 loculi nuovi, quindi finalmente il cimitero di Collimadonna torna alla sua funzione e potremo utilizzarlo per le sepolture. I tempi quali sono? Ad agosto ci sarà la gara, a settembre realisticamente partiranno i lavori, credo entro fine settembre, 4 mesi per i lavori, quindi a inizio anno avremo il completamento di questi lavori. Però l'obiettivo che noi vogliamo cogliere è che per il primo novembre quei camminamenti da troppo tempo interdetti possano essere utilizzati in modo che le persone che fino ad oggi hanno potuto portare un fiore ai propri cari in alcune cappelle gentilizie di una zona specifica possano invece tornare a farlo. Quindi credo che questa operazione sia un'operazione non soltanto di opere pubbliche ma anche un'operazione sociale e di sentimento ed era giusto farlo, il cimitero per troppo tempo è stato trascurato. Oggi con questi 570 mila euro, una somma importante, torniamo a occuparci in maniera concreta sia del cimitero, sia delle sepolture e sia della frana perché eliminiamo il rischio. Oltre 5 milioni di euro di fondi statali arriveranno al comune di Montesilvano per un restyling del lungomare e per ridare vita allo storico edificio di Villa Delfico. Andrea Costantini. Grazie ai fondi statali ottenuti con la partecipazione al bando Qualità nell'Abitare, al quale ha partecipato con Città Sant'Angelo e Silvi, il comune di Montesilvano ha ottenuto la somma di 5 milioni e 310 mila euro che una volta disponibili saranno utilizzati per due linee di intervento molto attese. 2,4 milioni saranno destinati alla riqualificazione del lungomare Viale Aldomoro con tra le altre cose sostituzione di arredi urbani ed eliminazione del muretto come nel tratto del Jova Beach Party. 2,8 milioni di euro per rimettere in sesto e poter riutilizzare Villa Delfico, un edificio storico che è nel cuore e nei ricordi dei Montesilvanesi ma che da anni è in abbandono, tanto da essere diventato meta di senza tetto con svariate operazioni di sgombero portate a termine dalle forze dell'ordine in passato. Entro tre anni Villa Delfico potrebbe tornare a nuova vita. Finalmente con queste risorse derivanti da un bando al quale abbiamo partecipato, peraltro raggiungendo il diciottesimo posto sul 271, e appunto questa struttura non soltanto verrà restaurata ma verrà messa a disposizione della cittadinanza non soltanto per quello che riguarda la struttura stessa ma anche tutta l'area adiacente e retrostante, un'area importante che vogliamo dedicare alla cultura e allo svago, perché no? e in qualche modo farla diventare un polo culturale. Sicuramente ci sarà un ragionamento da farsi per quello che riguarda il restauro, tutti quanti siamo ovviamente d'accordo affinché si mantenga uno stato di cose il più possibile attinente a quella che era la struttura quando funzionava e per tutto il resto, per la destinazione e per quello che dicevo, soprattutto per quello che riguarda l'importante area retrostante, faremo un ragionamento. Chiederò il parere della Procura per l'abusivismo che da ormai troppi anni preclude l'accesso alla spiaggia nella zona di Piazza Le Laudi a Pescara, ad annunciarlo il Presidente della Commissione Consiliare Permanente Mobilità e Sicurezza, Armando Foschi. Piazza Le Laudi a Pescara, Armando Foschi, qual è l'attuale situazione? Allora, situazione assurda di un'occupazione abusiva del libero accesso alla spiaggia. Le leggi, il SID, il Sistema Informativo De Magnale, il Piano Spiaggia e l'ordinanza della Regione Abruzzo dell'aprile 2021 prevede uno spazio tra gli stabilimenti balneari per consentire l'accesso soprattutto ai diversamente abili, soprattutto come abbattimento delle barriere architettoniche. Qui c'è un ordine del giorno votato dall'intero Consiglio Comunale che viene disattesa da un dirigente. La struttura del Sindaco è da più di 21 giorni, più di 21 giorni che chiede chiarimenti al dirigente che non risponde. Quindi, vista la mancanza di risposte, io, mio malgrado, mi verrò costretto a rivolgermi a un organo terzo che è la Procura della Repubblica di Pescara per vedere di risolvere questo problema che è vergognoso. Uno spazio che ricade in seno a chi? In seno al Demagno, è uno spazio previsto proprio dal Demagno e tra le concessioni balneari tre metri di libero accesso. Ecco, siamo in piena estate, tra poco nel mese di agosto e tanti bagnanti, soprattutto disabili, si parla sempre di spiagge più accessibili che vorrebbero accedere al mare, non possono? In Piazza Le Laudi purtroppo non è possibile, io chiedo minimamente scusa ai tanti signori disabili che non possono accedere sulla spiaggia qui in Piazza Le Laudi. Ecco, per chiudere, della Procura che cosa si attende? Mi attendo alla risoluzione, visto che c'è un palleggio di competenze tra i vari uffici comunali, bisogna rompere questo palleggio e mettere fine alla parola che è una vergogna, siamo dinanzi a una situazione vergognosa, un libero accesso occupato da un piano bar, da uno spazio, un angolo bar, le sedie, tavolini, fioriere messe abusivamente e nessuno è in grado di rimuoverle. Tanti cittadini si lamentano perché dicono che sta diventando anche una pattumiera. Esatto, infatti è diventata una discarica abusiva. Io potrei venire anche con un martello romano, poi mi becco io la denuncia, per quel motivo quando ci sono gli organi preposti a rimuovere queste fioriere e riconsentire il libero accesso alla spiaggia. La Via Verde della Costa dei Trabocchi sarà ufficialmente inaugurata dall'evento Art Bike & Run in programma dal 30 settembre al 3 ottobre in diverse località del litorale della provincia di Chieti. Vediamo di cosa si tratta. La Via Verde della Costa dei Trabocchi è la grande protagonista dell'evento che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre con l'intento di inaugurare il rinnovato tracciato. Art Bike & Run che sintetizza anche i tanti modi per poter fruire dello splendido corridoio del litorale teatino. Si tratta di un progetto di lega ambiente e camera di commercio di Chieti Pescara in collaborazione con Regione Abruzzo, Fondazione Aria, Gal Costa dei Trabocchi e Carsa. Si parte il 30 settembre a Ortona con un incontro sulla mobilità sostenibile. Venerdì 1 ottobre inaugurazione del Village Art Bike & Run sul lungomare di Vasto. Sabato 2 ottobre la gara a cronometro individuale da Fossa Celsia a Marina di Torino di Sangro e l'evento non competitivo Sunset Running tra Vasto Marina e San Salvo. A chiusura, domenica 3 ottobre, ciclopedalata enogastronomica dalla Marina di San Vito Chietino a Fossa Celsia per proseguire verso Marina di Torino di Sangro, Casal Bordino, Punta Derci e Vasto Marina. Sarà anche l'opportunità di rilanciare il progetto di mobilità sostenibile che spinge all'uso combinato di treno, bus e bici. La parte art sarà poi rappresentata dalle nuove gallerie presenti nel tracciato che si trasformeranno in installazioni visive a cielo aperto grazie allo street artist Milo. Insomma, un modo per far conoscere e apprezzare le potenzialità paesaggistiche e turistiche della Via Verde e le modalità alternative attraverso cui viverle. E non mancheranno nella quattro giorni le degustazioni delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. Finalmente, dopo ormai decenni che si parla della pista ciclabile alla costa dei Trabocchi finalmente abbiamo le garanzie che siamo giunti al poterlo soffrire. Saranno momenti che porteremo a far conoscere il nostro territorio all'intero paese sarà un momento di gioia per il territorio perché vediamo finalmente la possibilità di cominciare a soffrire e di far conoscere le nostre bellezze che dal mare vediamo, le nostre colline, le nostre montagne che sono uniche in Italia e propriamente anche nel mondo. Sicuramente sono tre giorni importanti in cui l'Abruzzo Costiere, in particolare il tratto meridionale legato alla costa dei Trabocchi sarà protagonista di questa manifestazione sarà l'ennesimo riflettore acceso su questo tratto stupendo della nostra costa giornate in cui anche le amministrazioni locali verranno coinvolte e renderemo ancora più visibile questo tratto della nostra costa che sta diventando un brand nazionale. Si sono riuniti a Pianella i sindaci dei paesi abruzzesi che fanno parte di Città Slow International. L'incontro è stata l'occasione per discutere delle nuove strategie usufruendo anche dei vantaggi che potrà offrire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo presidente di Città Slow International, sindaco di Asolo Mauro Migliorini ha scelto Pianella come prima uscita istituzionale. Presso la sala del Consiglio Comunale ha incontrato i sindaci di Città Sant'Angelo, Controguera, Guardia Grele, Francavilla, Almare, Penne e Giuliano Teatino. Città Slow, nata e ispirata dall'Italia, ha come obiettivo quello di preservare lo spirito della comunità e allo stesso tempo trasmettere la conoscenza alle nuove generazioni per renderle consapevoli del loro patrimonio culturale. Tra i principali temi affrontati, quello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strumento molto utile per costruire il futuro dei Borghi Slow. Proprio il PNRR propone sotto il profilo operativo interventi di rigenerazione delle città e del territorio, digitalizzazione, infrastrutture energetiche, progetti per la formazione, la ricerca e la cultura, progetti di inclusione sociale, diritto alla salute e la difesa del biodiversità. In Abruzzo perché è una delle regioni più dinamiche e anche perché a livello internazionale in questo momento è un po' impossibile lavorare per Città Slow. Città Slow è questa meravigliosa realtà internazionale che raggruppa oltre 300 città in tutti i continenti, ma in particolar modo qui in Italia. Città Slow non è solo un modo di essere, è saper fare, saper amministrare, lavorare per il proprio territorio basandoci su alcuni principi, quali la sostenibilità, la tutela della biodiversità, l'agrobiologia, quale la resilienza e via dicendo. Tra l'altro tutte tematiche che sono inserite nel piano nazionale ripartenza e resilienza. E noi ne siamo assolutamente fieri perché non sono tematiche per noi nuove, sono tematiche nate oltre 20 anni fa che continuiamo a portare avanti. È un incontro assolutamente proficuo, grande progettualità e la soddisfazione di vedere la filosofia Città Slow che finalmente viene tradotta in atti ufficiali dell'Unione Europea prima e del governo italiano poi. Leggere i messaggi di sostenibilità, di valorizzazione dell'ambiente, di attenzione ai borghi e alla sanità di prossimità sicuramente ci riempie d'orgoglio e ci investe di grande responsabilità perché sappiamo come Città Slow di aver già realizzato concretamente molte delle progettualità che il PNRR si propone. Quindi dobbiamo e vogliamo essere partner di questo epocale cambio di passo e cambio di visione della politica dei prossimi anni in maniera come sempre propositiva e costruttiva. Dopo un anno di stop a causa della pandemia torna a Montesilvano il premio di Martin giunto ormai alla tredicesima edizione. I riconoscimenti andranno a personaggi che si sono distinti in vari paesi del mondo e nelle regioni italiane dove attualmente vivono. Elisa Coclite in arte Casa di Lego, la chef Rosanna Di Michele, l'associazione degli abruzzesi in Argentina, Gino Bucci alias l'Abruzzese fuorisede e la scrittrice Donatella di Pietro Antonio. Sono i vincitori della tredicesima edizione del premio Dean Martin che si svolgerà l'8 agosto in Piazza Galli a Montesilvano Colle. Premio speciale Gaetano Crocetti per chi opera sul territorio in maniera meritoria sul campo del sociale e della solidarietà quest'anno a Claudio Ferrante. Intanto questa mattina nel corso della conferenza stampa il cappello simbolo del premio Dean Martin è stato consegnato al pianista Danilo Rea e all'accordatore Angelo Fabbrini. Torna il premio Dean Martin dopo un anno di assenza a causa della pandemia e torna in uno scenario dove è praticamente nato a Montesilvano Colle. Io ci tenevo molto a portare il premio in quella location che è davvero una location straordinaria ed è un modo anche per far conoscere il nostro territorio. Un bellissimo parterre che anche quest'anno racconterà tanto di Abruzzo ma soprattutto tanti sogni che sono riusciti a realizzare, quindi un premio anche che ha la funzione di incoraggiare e dare speranze in questo periodo che non è male. Ecco con il simbolo che è il cappello di Dean Martin. Sì, c'è tutta una cerimonia, noi daremo questo premio che consiste nel cappello di Dean Martin e c'è questa leggenda in cui si racconta che Dean Martin anche fin da bambino quando indossava il cappello di papà Gaetano si trasformava e diventava un bravissimo cantante già da piccolino, un grandissimo showman. E ora allo sport con il calcio, lunedì pomeriggio ci sarà il raduno del Teramo allo stadio Gaetano Bonolis e sarà una giornata importante per i biancorossi perché si discuterà tra gli altri anche il ricorso della Casertana al collegio di garanzia del Coni in caso molto probabile di rigetto. Federico Guidi potrà svincolarsi dalla società campana e firmare per il Teramo. Al raduno biancorosso potrebbero prendere parte anche due pezzi più pregiati sul fronte cessioni per i biancorossi, Pietro Cianci su cui c'è il pressing del Palermo e Simone Santoro sul quale c'è il Brescia. Qualora le due trattative non si chiudano nelle prossime ore, i due calciatori si presenteranno al ritiro a meno della concessione di un permesso. Ultimi giorni per il Pescara a Palena. Martedì prossimo la squadra lascerà il comune del Sangro Aventino dove domani alle 16.30 si disputerà la prima amichevole precampionato contro lo spoltore. In queste ore però tiene banco sul fronte mercato il rifiuto dell'attaccante Brunori. Il servizio. Matteo Brunori ha detto no al Pescara anche se la risposta non è definitiva. Almeno questo si desume dalle dichiarazioni rilasciate al portale Pescara Sport24.it da Sandro Stemperini, l'agente dell'attaccante nato in Brasile e che ha già indossato il biancazzurro da agosto 2019 a gennaio 2020. Matteo ha momentanamente detto no al Pescara, ha affermato il procuratore, solo perché, avendo ricevuto anche altre proposte, vuole riflettere bene prima di prendere una decisione. A Pescara è stato bene ed ha buoni rapporti con tutti, ha chiusato la gente, come a rimarcare che questo provvisorio no non è dettato da pregressi e rapporti non idiliaci con alcuni compagni di squadra, ma solo da un'attenta valutazione delle offerte. Brunori era stato individuato dai dirigenti biancazzurri per arricchire la rosa di Auteri nel settore centravanti, anche per cautelarsi sulle condizioni fisiche di De Marchi, riduce da due anni difficili e che ora deve dimostrare di poter trovare continuità di impiego. In caso di rifiuto definitivo di Brunori si valeranno altre piste. Quella che porta a Giuseppe Panico tocca il settore esterni. All'inizio della prossima settimana potrebbe svincolarsi d'ufficio con la definitiva esclusione del Novara dopo la pronuncia del CONI con Dursi e Galano potenziali titolari. La dirigenza tende a ricapire da Auteri se Bocic e Di Grazia possono far parte del progetto o meno. In caso contrario si potrebbe aprire uno spiraglio per Panico che in passato ha indossato la maglia del Teramo al pari di Tommaso Cancellotti di proprietà del Perugia e che è finito nei radar del Pescara per il ruolo di esterno-destro come alternativa di Zappella. Già in passato il Delfino era stato interessato a Cancellotti quando poi nel 2017 in uscita dalla Juve Stabia si era accasato alla Brescia. In attesa di ulteriori sviluppi, e molto dipenderà anche dalle uscite di quei tesserati che non rientrano nei piani, c'è comunque grande curiosità per vedere all'opera la squadra ed i neoacquisti. Curiosità che sarà soddisfatta dall'amichevole che domani alle 16.30 la squadra disputerà con lo spoltore. Massimo 300 spettatori potranno accedere al campo gli Angeli di Palena con prezzo del biglietto di 5 euro. Auteri in questi giorni ha lavorato molto sulla parte atletica ma molto anche si è speso sulla parte tattica cercando di trasmettere al gruppo i principi di gioco del suo 3-4-3. Lavoro che fino a martedì il tecnico di Floridia proseguirà a Palena. Poi la chiusura del ritiro e dopo alcuni giorni di riposo la squadra continuerà ad allenarsi al poggio. Grande fermento anche nel mercato di Serie D, importante campagna di rafforzamento messa in atto da Notaresco e Pineto, finaliste play-off dell'ultima stagione. Il Notaresco si è assicurato l'ex esterno dell'Aquila Niccolò Valenti lo scorso anno all'Arzignano, Alessandro Bruno per anni centrocampista del Pescara e lo scorso anno al Casarano. e il centrocampista Andrea Massetti dal Giulianova che in passato aveva già militato nel San Niccolò. Nei prossimi giorni ci sarà anche l'ufficializzazione del regista Massimo Loviso del Castelnuovo per l'attacco Il Sogno e Francesco Maio, svincolato dal Piacenza, ex Martin Sicuro. Il Pineto ha ufficializzato le importanti conferme dei centrocampisti Lorenzo Paoli e Filippo Baldinini e tre innesti, il centroavanti Federico Cardella, 16 reti lo scorso anno con la maglia della Cinzia Albalonga, il difensore centrale proveniente dal Matese, Pellegrino Albanese, e poi un gradito ritorno, quello dell'esterno mancino Marco Pezzotti dalla Re Canatese. Pezzotti aveva già giocato a Pineto infatti nella stagione 2017-2018. Il Chieti ha invece annunciato il centrocampista argentino di origini croate, Geronimo Miviscovic, ex Agnonese ed Avezzano ed è vicino al difensore Gianmarco Bassini. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto potete ritrovarli se volete sul nostro sito www.tv6.it e sul canale YouTube dell'emittente. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il video.